C'è un'altra pandemia? E' di lunga durata? Sì, è il diabete. E in questi pochi minuti cercherò di raccontarvi questo progetto europeo che ha come ambizione quello di far dimenticare la malattia ai soggetti che hanno il diabete. Non a caso si chiama Forget Diabetes. Il diabete è una pandemia diversa da quelle infettive a cui siamo abituati e in cui siamo dentro, forse siamo usciti, forse no. Le pandemie infettive insorgono, crescono, come vedete dal grafico, possono anche ripartire, speriamo di no. Ma il diabete invece c'è da tantissimo tempo ed ha una crescita pazzesca. Guardate i numeri che ho riportato nella slide. Nel periodo 1980-2017 la popolazione di soggetti con diabete è raddoppiata. Siamo a 425 milioni nel mondo. E la proiezione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è che nel 2045 si arrivi a 629 milioni. Dei soggetti con diabete, uno su dieci e soprattutto bambini e adolescenti, hanno quello che si chiama diabete di tipo 1 o diabete insulino dipendente. Cosa vuol dire? C'è bisogno dell'ormone insulina che in questi soggetti non c'è. Cerchiamo di capire meglio con un piccolo diagramma. In un soggetto normale, durante un pasto, che vedete il freccione in alto a sinistra, la concentrazione di glucosio, cioè degli zuccheri, cresce nel sangue. Questa stimola la secrezione di insulina in basso a sinistra delle betacellule. L'insulina ha come obiettivo quella di mantenere la concentrazione di glucosio in un range ristrettissimo. È un sistema di controllo incredibilmente raffinato. Nei soggetti che hanno il diabete di tipo 1, a causa di processi autoimmunitari, le betacellule sono distrutte. E quindi c'è bisogno di iniettare l'insulina nel tessuto sottocutaneo, nel braccio, nell'addome. Questa è la situazione di oggi. Primo pannello a sinistra. Uno o due oggetti sul corpo. Non piacevolissimo. Secondo pannello. Il controllo della glicemia non è ottimale. Vedete che si esce dalla fascia verde. Si esce sopra e si esce sotto. Questo perché la via sottocutane non è la via fisiologica di infusione dell'insulina. Il terzo pannello è drammatico. Al mese ci sono circa 150 azioni che un soggetto con diabete deve fare. Tra pungidito, iniezioni, visite, eccetera. Se moltiplicate per 12 mesi e per una vita media di un paziente diabetico, arrivate a circa 100.000 azioni durante la vita. L'ultimo pannello è, diciamo, retorico. L'impatto psicosociale è enorme. Questo progetto di cui voglio raccontarvi, che si chiama appunto Forget Diabetes, è un progetto europeo. Vedete un po' di bandierine con i vari paesi. Ci sono due università italiane, due università tedesche, un'università francese, due piccole e medie aziende, una in Norvegia, una in Italia. Sul pannello di destra vedete qualche dato. È partito nell'ottobre del 2020, durerà per quattro anni e mezzo ed è stato finanziato con circa 4 milioni di euro. Qual è l'obiettivo, diciamo, di questo progetto? Leggete il neretto. Cioè, avere un dispositivo completamente impiantato, che va a scomparire, completamente automatico, fisiologico, nel senso che usa non la via sottocutanea, ma la via fisiologica di infusione dell'insulina, materiali ottimizzati dal punto di vista della immunocompatibilità, personalizzato, cosa vuol dire? Che si adatta alla vita reale del soggetto. Ogni soggetto è diverso dall'altro e ogni soggetto cambia nel tempo. La speranza è che questo pancreas bionico, come l'abbiamo chiamato, possa liberare il soggetto da tutti quegli interventi di cui vi ho raccontato. Questo è, non è proprio, diciamo, piacevolissimo questo signore, ma insomma, è tipo un androide che è comparso sulla Terra, però, insomma, questo c'ho. E vedete che ci sono gli ingredienti un po' di questo dispositivo. C'è un sensore che è intraperitoneale, ma adesso andiamo nel dettaglio, algoritmi di intelligenza artificiale che a partire dai dati del sensore passano la comunicazione alla pompa, e quindi un algoritmo che controlla l'infusione di insulina, e poi vedete in alto il soggetto che sta ingerendo una pillola. Cioè l'idea è che ingerendo una pillola di insulina ogni due settimane la pompa si ricarichi e quindi il problema delle iniezioni sottocutanee sparisce. E qui c'è un video che penso possa aiutare a capirvi meglio un attimo il funzionamento del dispositivo. C'è il sensore, vedete viene monitorato la concentrazione di glucosio, l'insulina, la batteria. Questo è il dispositivo. Misura la concentrazione di glucosio e il sensore. L'insulina c'è bisogno di insulina, il soggetto mangia la pillola e questa pillola viaggia nell'intestino. A un certo punto c'è un meccanismo di riconoscimento magnetico della pillola per cui un ago la buca, esce l'insulina e l'insulina va a rifornire il serbatoio della pompa. e quindi quando andate a guardare il monitor dell'insulina vedete che è arrivata al 100%. L'altro aspetto importante è la ricarica della batteria e questo si riesce a fare in maniera wireless con una cintura che il paziente indossa. La batteria si ricarica. Se vi ricordate il pannello del Today quello che succede oggi sotto c'è quello che dovrebbe succedere se abbiamo successo con questo progetto vedete che il numero di dispositivi va a zero primo pannello secondo pannello il controllo diventa assolutamente ottimale stiamo sempre dentro la fascia verde non ci sono iper e ipoglicemia importantissimo il numero di azioni due ingestioni della pillola e due ricariche della batteria per mese facile l'ultimo pannello l'impatto sociale è veramente minimo vi lascio con un aneddoto che è carino un paziente mi ha chiesto ma allora curare il diabete è come avere gli occhiali ma dico cioè non è una cattiva domanda ma dico sai che facciamo ancora meglio è come avere delle lenti a contatto grazie a tutti Grazie a tutti